Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio personale della Polizia di Stato appartenente all'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno è effettuato, nel fine settimana, mirati i servizi finalizzati al contrasto della prostituzione, provvedendo all'identificazione e all'allontanamento di alcune donne nella zona industriale di Salerno, nonché all'esecuzione del provvedimento di espulsione nei confronti di una cittadina albanese di anni 20 che veniva condotta al centro immigrazione di Ponte Galeria. Altri controlli lungo tutta la Litoriane tra Battipaglia, Eboli e Capaccio con la Polizia Locale per debellare il fenomeno.